Una giornata di sole e poco vento, un'occasione unica per raggiungere il Parco Nazionale dell'Asinara, inserito con Porto Torres e altri 13 comuni sardi nel weekend dedicato a monumenti aperti. Uno spettacolo imperdibile per i tanti visitatori che hanno preso d'assalto l'isola, chi è a bordo di un catamarano, partenza da Stintino, chi con i traghetti della Delcomar da Porto Torres. Tantissimi si sono armati di biciclette, ma molti hanno preferito le gite a cavallo, offerte dai maneggi del posto, per i più pigri il trenino. La grande novità di questa edizione è stata l'apertura dell'ossario, costruito nel 1936 per volontà del governo austriaco, per garantire sepoltura ai numerosi prigionieri austro-ungarici che trovarono la morte sull'isola dopo il primo conflitto mondiale perché affetti da colera o tifo. A guidare i visitatori, gli studenti delle scuole superiori di Porto Torres. Qui troviamo 7.048 ritrovamenti di uomini, distribuiti in 20 teche, all'incirca 20 teche perché una contiene dei nomi, dei militari più importanti, gli unici nomi che abbiamo. Poco distante dall'ossario, la cappella austro-ungarica, edificata dai soldati in prigioni all'Asinara nel 1916. Nell'isola famosa per i suoi asinelli albini e per le sue carceri, non poteva mancare la visita ad uno dei tanti luoghi di detenzione, come la diramazione agricola di Campuperdu, parte della colonia penale istituita nel giugno del 1885. La struttura, costruita dopo la Prima Guerra, ospitava i detenuti impegnati in numerose attività nella vasta area pianeggiante. Di sicuro interesse, soprattutto per i più piccoli, anche la visita al centro di recupero tartarughe marine, dove è possibile ammirare questi animali curati e poi restituiti al loro ambiente naturale. Un successo di presenza all'isola Parco per monumenti aperti, anche grazie alla collaborazione di associazioni, scuole, operatori culturali, turistici e commerciali. Il paradiso del silenzio e della natura incontaminata continua a crescere e ad attrarre turisti e in questo caso il viaggio per loro vale tanto quanto la destinazione.